Quel nichilista di Woody Allen, vedete cari amici, vedete? Lo chiamano nichilista, è scritto qua, è scritto qua, vedete? Sta scritto qua, vedete? Lo vedete che è scritto qua? Lo chiamano nichilista e così lui nei salotti, nei salotti ci va tutto felice e contento come un nichilista che deriva dai nichil, nulla, ma è un vero nichilista, sapete che fa? Prende carta e penna e ci scrive sopra, io sono un nichilista, non credo in nulla, perciò mi sparo un colpo di pistola alla tempia e tanti saluti al mondo, ma questo non è un nichilista e semmai i nichilisti sono tutti coloro che lo foraggiano andando al bottiglino a comprare il biglietto per vedere i suoi beceri film e vedete come la guarda volentieri questa bella ragazza che mi pare che sia Emma Stone, Emma Stone, questo non è un nichilista, per tutta la vita non ha fatto altro che fare quattrini, chiamalo nichilista che crede nel denaro, nella forza del denaro, ecco qua cari amici, però i giornalisti continuano a usare la parola nichilista, nichilista, ripeto cari amici, ripeto, ripeto, nichilisti semmai sono tutti coloro che vanno al bottiglino a pagare il biglietto per vedere i suoi peceri film, ok cari amici, e alla fine la conclusione è sempre questa, uno si legge quest'opera e capisce come vanno le cose a questo mondo. A tutti voi tanti cari saluti da Serafino Massoni.